Come si fa a far uscire una Banned di sabato pomeriggio? Perfoggio ai coglioni gli streamer Abbastanza, abbastanza Ieri stavo al mare Apro Instagram Pam, Banned Yu-Gi e tutti duellanti ben ritrovati sul canale Oggi finalmente siamo qui con la reaction alla Banned List Perché la Konami, ovviamente, invece di farla uscire in settimana come è suo solito Ha deciso di far uscire di sabato pomeriggio la Banned Quindi io di domenica mattina alle 10.18 devo registrare la reaction Ovviamente come sempre ci sarà Michele al mio fianco che reacterà insieme a me Ma, cosa molto più importante, vi ricordo che se volete acquistare il prodotto coreano Trovate il link di Jack Store qua sotto in descrizione Inoltre insieme trovate anche un piccolo codice sconto Così se volete anche risparmiare non è male Poi se volete liberarvi di carte di Yu-Gi, Magic, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Force Will e Digimon Trovate il link del mio Instagram qua sotto in descrizione Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare Detto questo io partirei subito perché è da ieri che ho il cazzo duro Io so, esatto, so curiosissimo Non mi hai fatto guardare nulla perché volevi che stesse a zero Anche se una carta solo lo so Mi è arrivato purtroppo Allora partiamo Cyberstein? In che senso? No, ci sta, ci sta Cyberstein era veramente troppo rotto Era una carta ingiusta E rotta Cioè la pescavi, la hard pescavi Così era un exterio a turno zero Totalmente a gratis Cioè, veramente rotto La cosa più divertente è che settimana scorsa è venuto Nicolas Dovevamo fare a cambio con alcune carte Aveva tipo questi 15 Cyberstein Io ho detto, me li dai? No, no, me li vendo io Quanto godo, quanto godo, porca troia Comunque ho visto Max C è ancora bandito Quindi niente, neanche a sto giro farò i soldi Tanto Max C mi sa che ce l'ho dimentiché Per fortuna Poi, andiamo giù Scarecru Sporca toglia Il Super Samurai No, Scarecru Quanto godo, quanto godo Perché lo venduti tutti Por quanto godo Allora, per me ci sta Perché era impensabile che un mazzo Anche se Purporetti ha avuto i supporti adesso C'avesse 12 one card starter Sì Cioè, quello è una cosa Veramente disdevastante Sì, ma quel cazzo di mazzo ti partiva con Regulus Barone Apollusa Savage E mi sembra ci fosse un'altra negazione Quindi, di che cazzo stiamo a parlare? Dai, è giusto Perché io non posso giocare a palladerà Solo perché lui mi fa 72 negazioni Bene Ci sta Ci sta E poi si poteva anche immaginare A posteri Cioè, è inimmaginabile che gioca a toccassero dopo un mese Però, nel senso A posteri Mi viene da dire che uno forse poteva aspettarsi Dal fatto che l'ha fatti tutti quanti l'orality I supporti nuovi Superivi Quindi Non è che ci ha speso troppo una persona E poi basta questa storia Nel senso La gente che dai piangono Eh, ma io me lo so appena montato Ho buttato i solid Vaffanculo Te sta bene Nel senso Te lo sei montato per andare al local O te lo sei montato per andare a fare il nazio Se lo sei montato per il nazio Spero che toppi E è ancora valido Se te lo sei montato per il local È cazzi tuoi Cioè, nel senso Non te puoi comprare i mazzi Che sono palesi Di uno E poi non ci fai niente Ma guarda Che nel pratico Se tu compravi tutto al momento giusto Il mazzo lo pagavi 40 euro E quindi Ci sta anche Poi se compri il bilancio adesso A 12 euro Sei un po' un figlio di puttana Però Dettagli Allora Andiamo avanti E vediamo cosa abbiamo Vedo che purtroppo Simorg è ancora lì Ma è Diablosis Questo Eccolo 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 Era ascoltato Era la carta più forte del mazzo Te levava la roba Dexter E ti faceva sapere cosa giocava l'avversario Non ho venduto uno Ce l'ho ancora tutto Ma è giusto È giusto Non è che gli cambia Troppissimissimissimissimissimissimo Cash Però Cioè sì Allora Aspetta Gli cambia tantissimo Però Secondo me È una hit giusta Per il semplice fatto che Era Corretto Cioè era tossico per la Community Il fatto che Io dovevo montare il mio cazzo di mazzo Mettendo l'extra a caso Con le carte più importanti A 3x 2x Per il semplice fatto che Lui me li poteva scegliere Cosa bandirmi Sì Sono d'accordo Sono completamente d'accordo Non era troppo forte come carta In cash ovviamente Allora Andiamo avanti Abbiamo Cosruller Ancora lì Metamorfosi pure Red lotus Ok Ah Il red lotus Ok ho capito Cazzo è vero Dai no Mi sembra eccessivo Anche a uno andava bene Ah sì Tanto Va bene Ok No Allora Fortissima come carta Però dai Almeno a uno Potevo poterla giocare Cioè mi piaceva giocarla Poi branded Branded Explosion Qual è? È quella che Rievoca Tributi una fusione E rievoca due dal cimitero Uno sul terreno tuo Uno sul terreno del loppo Faceva dei lock Infiniti di merda Ah ok La trappola comune Va bene Sì Buono Buono Perché era Un cancro e basta Questa carta Cioè era un Va bene Buono Buono Allora poi Bandite finite Le limitate abbiamo Ok buone Però per le bandite Sì Se partiva dal nazio La Vedevi La community Che non andava più all'evento Sì 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 Blaster Blaster Ragazzi L'avevamo detto Allora Settimana prossima O lunedì Questo o il prossimo Si apre il tin Per festeggiare Allora Blaster Comunque ci sta Escono i supporti fuoco Master 2 era stato sbandito In Giappone era sbandito Quindi era palese Che sarebbe arrivato pure da noi Prima o poi Adesso aspettiamo Redox E Tidal Vediamo Come altro Abbiamo i danger Stanno tutti qua Circular Ma cosa cazzo Significa Ma no Ale Ora devi cambiare mazzo Basta fare content Ma no Su 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 Matmac Cioè da dire che Matmac Come carta Appareva che Era veramente Stata creata Da un tizio a caso Che Ha detto Vabbè Facciamo una carta E facciamogli fare tutto Qualsiasi cosa Però il matmac Non è che Cioè nel senso Sì fortissimo Basta Il problema è che Lo mi sentivo E uccidelo Perché Sai il problema di quel mazzo È comedino Nel momento in cui Cambia il meta C'ha il meta giusto Il mazzo diventa fortissimo Togliamo il problema Alla radice Allora Vediamo cos'altro ci abbiamo Gamma Gamma Veramente gamma Ragazzi Oh mio dio Oh mio dio Alla fine Ragazzi Non ho mai giocato gamma Gamma non me l'aspettavo Assolutamente Assolutamente neanch'io Però è l'HT più usata Allora Non me l'aspettavo assolutamente Non l'ho mai usata La userò per la prima volta Al nazio E poi L'arriverò definitivamente Anche dall'album Drestable Va bene Ci sta Fortissima Però Secondo me Non è da Non era da limitare Cazzo Io il 90% delle volte Becco Gamma pilota in mano O doppio gamma e pilota No la domanda mia è La gente Ci proverà a giocare Mono gamma e monopilota Perché secondo me Sto giro il pilota Non lo vedi Ma no Perché dovresti prendere un brick Per averci una negazione Se forse lo vedi Così hai il 50% di possibilità Di beccare gamma Prima di pilota Prima era molto meno Denglong Degli alzing No 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 Questo è un male Questo è un male Fammelo cercare Che si confonde con un altro Che quello che Era stato bandito Per colpa di Dino Ah è vero Poi giocare Sworzol Adesso Sworzol Tornerà più forte che mai Questo è assolutamente un male Lo volevo vedere Vediamo Vediamo Sì Ariseart Perfetto Ora è il momento di comprarlo Dai È limitato Uno per Me lo occorre Dai Faceva anche il caffè sta carta Bandiva Faceva da macro Lo pezzavi lì in campo E basta Facevi Com'è che si chiama Evely Lasciavi lui Faceva il suo A posto Sì 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 Ci sta Cache non so come gioca Deve fare per forza la lock E non so se gli è batto A parte che non lo so Se la lock con Diablosis La riesce ancora a fare quella La combustita Senza Diablosis Secondo me Lock completa di tutte No Però sicuramente Qualcosina può fare Tanto comunque una Riseart ce l'ha Qualcosa si inventano Dai qualcosa si inventano Sicuro Poi tra le limitate abbiamo Purely Memory Pure Purely Memory è quella nuova Che c'è da adesso Aspetta Qual'era Memory? Quella che Evoca? Sì Quella che evoca Sì sì Ok Usciva da No ad Adme Ok no Pensavo fosse uno dei supporti Usciti adesso Nell'ultimo set Dai Costa Banned hanno toccato tutto il meta Che era nato Dici Ok Prossimo meta Purely Samurai Tocchiamoli subito Sarei curioso di sapere Se è una hit pesante O no Perché Purely Ci ho giocato contro Però non lo conosco Bello come mazzo Quindi Non saprei dire Io devo ancora testare Contro questo mazzo Per il nazio Il nazio è settimana prossima Allora poi Andiamo avanti Albero Sacro Naturia Oh sì Ma no Sì godo Perché? Godo godo Ma no Ma come? È un mazzo del cazzo No è un mazzo del cazzo Perché da tutti quei cazzo di Naturia Quello che protegge Quello che evoca special Quello che nega magia Quello che nega la trappola Basta veramente Sì Anch'io odio Naturia Ma perché Toccarla così a cazzo In un senso Perché si gioca con i runi Ed è quello il problema Ristartiamo il meta Di nuovo Semi limitata abbiamo Araldo della luce arancione Ok Va bene Va bene Va bene Però sai è quel genere di carta Che può dare sempre problemi Sì sì Fascinissimo Unicorn Naturia Unicorn 2 Unicorn Naturia Va bene Di cash Lightning Storm A caso Ok Ma perché è due poi Cioè nel senso Va bene Non lo vedevo neanche così impattante Attualmente Però va bene Esatto Fontana Runic Grazie a Dio Almeno semi limitata Carta del merda Carta del merda Mazzo del merda Adesso giocava già due C'è il senso Ok Con questa grande hit Perché hanno fatto questo Perché Per incentivare Dice Ragazzi Sì ma metti la uno Dai Se li vogliamo toccare E gli stai dicendo Zio Io tra poco Ti faccio fuori Quindi preparati No ma Vendi il mazzo Secondo me Perché ristampano tutto All'interno dei team Quindi Volevano Hittare In modo tale Da venderli comunque Perché all'interno Ci sarà anche Purely E ci sarà anche Anche Runic Oltre Vabbè ExoSister Queste qua E quindi Nel dubbio Hanno detto Ma Runic Se può giocare ancora Sì Bene Mettiamolo dentro Almeno Facciamo così Almeno Riusciamo a vendere Comunque il prodotto Engage Semi limitata Il mazzo degli dei Guarda Io non lo voglio Vedere più Sky Striker Non lo voglio Vedere più Allora Io stavo montando Ieri Mattina Un video fatto con Filippo Su Sky Striker Lui doveva Convincermi a giocare il mazzo C'era anche una decklist Ora Il video è totalmente inutile Ma ragazzi Ve lo succherete comunque Perché io non lo riregisto Poi andiamo avanti No Giusto che sai che non lo voglio Sprite Starter Buono Semi limitata Ok Buono Ci stava Un tocchetto così a Sprite Va bene Quindi Sprite È quello che ne esce Indenne dalla band Probabilmente adesso Prossimi in azio Dopo quello italiano Pieno di Sprite Andiamo Dalle carte a tre Abbiamo Steam the clock Ok Ok Beardman a tre Va bene Ok Samsara Lotus Va bene Ma cos'è Samsara Lotus? Quello che ritorna dal cimitero Sì mi sembra Molto di livello 1 Pianta Ma perché? Vabbè È le carte che rimangono in banner La gente se ne dimentica Poi era il Quick Fix Che vabbè anche questo Me l'ero spoilerato Oh no Boh non credo Deve ritorni a essere Forza come lo era prima Poco ma sicuro Però Un bel cancro L'Irilus Che resti dal Starling Cosa ne pensi? E qui si gode Io godo Adesso Per Tribbri Godo tantissimo Per Tribbri adesso hai tutto Mi manca Seymour Per essere felice Ok Però va bene Forse quello è un po' Però va bene Drago face off Roba Draco Ragazzi Torna anche lui Dovrebbe essere la magia equipaggiamento Tipo No Sky Striker Modulo a tre Porca troia Porca troia Porca troia Praticamente Sky Striker È full power Sì Questo è multiroll Se non sbaglio Sì sì è multiroll Ieri ho parlato con Francesco Non mi aveva spoilerato la Banned Ma ha detto Guarda c'è un posto su Facebook Dove c'è scritto Ragazzi a voi Giocatori di Sky Dovrebbe venire il cagotto adesso No Guarda Escono pure dei supporti E il supporto è fortissimo Eh lo sono visto L'ho visto è forte Però basta Basta Striker Non lo posso più Però Beh tutto sommato È carina Come Come panelist Cioè È folle Cioè è totalmente random Però Non mi dispiace Perché ha toccato un po' qui Un po' la Un po' tutto quanto E in realtà Non so se ci avete cosa Nesce fuori Secondo me Rimane Cash Il mazzo Più forte del momento No Secondo me Sembra Tra questi sì Secondo me I più forti saranno A sto punto Branded Bistial Che tanto Gli è stata toccata solo Nella trappola Poi Sprite Che nel pratico C'è solo starter Limitato No semi limitato Quindi non credo Cambi tanto E Sky Secondo me Potrebbe dire la sua Non so se Dobbiamo aspettare Il supporto nuovo Però nel senso Attualmente ha tutto No no Sky qualcosina La farà di sicuro Tanto considera Che qualche toppettina Bassa La faceva Anche prima Che era Praticamente Un mazzo For fun Cioè è diventato Ma guarda Gli manca Una cosa Engage a tre L'unica cosa L'unica cosa Che mi dispiace Un po' A parte Max Che ok Ormai Ci ho fatto il callo Manca Arpa Degli Orkus Cazzo Io le ho da OT Aspetto solo Che torni a uno Per poterci lucrare sopra Però Dai Sono curioso Dove sapere come viene a fare Il meta Con sta roba Sì Anch'io L'unica cosa Che mi urta È che La banne Non è Per il nostro nazio Perché forse A quel punto Trapatrix Poteva dire la sua Però adesso Non credo È stata una bella Levella Però Se ci pensi Perché Ha toccato un pochino Ma tutto Sì Sono contento Cioè E poi mi sembra Che è stato Hit Che non hanno proprio Ucciso E distrutto Un mazzo Ma Ha indebolito Cioè qualcosa Qualcosa Chiaramente più Qualcosa meno Però Mi sembra che Mi piace Mi è piaciuta Come vanno Allora Secondo me Cash e Samurai No Samurai forse Avendoci tanti starter Riesce a giocare comunque Ma secondo me Cash Calerà veramente tanto Veramente tanto Quindi Secondo me Non dico che esce dal meta Però Sarà dura come cosa Cioè Non lo vedo Assolutamente bene Non so eh Vedremo Per me Cash ancora La dice Assolutamente Speriamo Perché No Anzi Speriamo di no Così a Riser Lo compro per 3 euro E va bene ragazzi Il video finisce qua Spero come sempre vi sia piaciuto E fatemi sapere Qua sotto con un commento Cosa ne pensate Alla banner di list Perché effettivamente È stato toccato tutto E l'unico ad averne guadagnato È Sky Ma va bene E adesso Con i prossimi nazi A parte il nostro Andremo a vedere effettivamente Quali sono i result E tenteremo di capire Effettivamente Qual è il mazzo più forte Ma nel senso Se vedremo vincere Sprite Sarà lui Detto questo ragazzi State mesi E noi ci rivediamo Domani Sempre qua Con un nuovo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti